Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, giovedì 7 settembre, ben trovati con Infostudio, sono le 13.45 in punto. E' ancora avvolto in parte dal mistero l'episodio di ieri sera, nell'ospedale di Ibovalencia si è presentato un ragazzo di 19 anni con una ferita d'arma da taglio all'addome. Si è presentato da solo e ha detto di essersi ferito da solo, anche se la versione naturalmente non è del tutto stata creduta ed è anzi al vaglio degli investigatori. I medici comunque lo hanno subito medicato, hanno verificato l'entità della ferita, lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico. Il ragazzo è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Piuttosto però poi i sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine che hanno ascoltato la versione del ragazzo ma adesso la stanno riscontrando, ripeto, la stanno vagliando. A Rossano i carabinieri hanno sequestrato 4 kg di droga di vario genere nascosti all'interno di una macchinetta utilizzata per il cambio delle monete in un bar ed hanno arrestato l'esercente del bar, vado a dire Antonio Calarota di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. Durante una perquisizione nella macchina è stato trovato mezzo chilo di cocaina, due chili e mezzo di marijuana, 200 grammi di eroina e 800 grammi di hashish. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato 90 mila euro. A Calarota è anche stata sequestrata una somma di denaro con tanti pari a 8 mila e 300 euro e poi assegni per circa mille euro. Si ritiene che possano essere provento delle attività di spaccio. A Crotone invece, vedremo tra poco una foto, è stata trovata una piantagione di marijuana con arbusti alti fino a due metri e mezzo già pronti per la raccolta dalla squadra mobile in località Cantorato. La piantagione, realizzata in un'area irrigata naturalmente da un corso d'acqua, era nascosta da una rete fitta di rovi e di canneti. Le piante, dopo essere state estirpate e sequestrate, sono state distrutte in un impianto a biomassa. Adesso le indagini proseguono per giungere all'individuazione dei responsabili della coltivazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato stamattina un internet point di Vibo Valencia, all'interno del quale venivano raccolte abusivamente le giocate su scommesse per eventi sportivi sia nazionali che esteri. Il gestore è stato denunciato da sequestrati anche computer, monitor e stampanti, come avviene sempre in questi casi. Il controllo rientrava proprio nell'ambito di attività mirate a contrastare la diffusione del fenomeno di queste agenzie che ricevono giocate su incarico di bookmaker esteri che non hanno però concessione e autorizzazione per effettuare appunto questo tipo di attività in Italia e che poi per via telematica trasmettono sia gli importi relativi alle giocate sia ancora quelli che attengono alle vincite. Comunque il gestore è stato, ripeto, denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. A Laureana di Borrelli i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio Salvatore Zungri di 23 anni, che è l'uomo che vedete nella foto, tentato omicidio, danneggiamento e porto e detenzione illegale di armi comuni. Zungri ha precedenti penali. È accusato di essere stato lui ad aver sparato a distanza ravvicinata e ad altezza d'uomo alcuni colpi di pistola contro un'abitazione a Feroleto della Chiesa e anche contro l'auto del proprietario, cioè del residente, meglio ancora, della casa dell'immobile. A denunciare il fatto è stata la stessa vittima ai carabinieri. Poi i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sono riseriti a Zungri, arrestandolo nei pressi della sua abitazione a Laureana di Borrelli. Ripeto, gli spari invece sono avvenuti a Feroleto della Chiesa poco dopo. Possiamo dire che il calabrese più amato in Polonia in questo momento. Parlo dell'orafo crotonese Michele Affidato che è tornato ancora una volta al santuario di Cestohova a Jasnagura per questa volta la celebrazione giubilare relativa al trecentesimo anniversario dalla prima incoronazione del quadro della Vergine Nera. Allora fu Papa Clemente VII a donare i preziosi che poi furono rubati all'inizio del secolo scorso. Circa 300.000 pellegrini provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti a Jasnagura in Polonia per la solenne liturgia eucaristica giubilare con la quale è stata ricordata la prima incoronazione della Madonna di Cestohova celebrata dal nunzio apostolico in Polonia, Monsignor Salvatore Pennacchio e concelebrata da tutto l'episcopato polacco nel trecentesimo anniversario della prima incoronazione della Vergine Nera che è la patrona del paese. Difatti alla cerimonia seguita in diretta dalla televisione di Stato polacca e da numerose emittenti televisive provenute da tutto il mondo hanno partecipato le massime cariche dello Stato tra cui il Presidente della Repubblica, Andrei Duda e il Premier, Beata Zidlo. E c'era anche l'orafo crotonese Michele Affidato al quale dopo la realizzazione dei diademi con cui l'effigia è stata incoronata il 27 luglio scorso è stato commissionato un altro prestigioso incarico ovvero quello di realizzare il Calice Giubilare un'opera in oro ed argento nella cui parte bassa è raffigurato in rilievo il logo ufficiale del Giubileo impreziosito con pietre di topazzi azzurri. L'opera, consegnata personalmente da Affidato durante l'offertorio nelle mani di Monsignor Pennacchio è stata utilizzata esclusivamente per la celebrazione e sarà custodita nel Museo del Santuario di Cestocova per essere ammirato dai pellegrini che si recano a Jasnagura ed in ricordo della festa giubilare e di questo storico evento destinato a rimanere nella memoria dei fedeli polacchi. L'incarico di realizzare il Calice si è dunque aggiunto a quello prestigiosissimo per l'esecuzione, a distanza di 300 anni esatti dalla prima incoronazione, dei nuovi diademi per l'effigie della Madonna Nera tanto cara a Giovanni Paolo II. In Polonia, tra i pellegrini presenti alla cerimonia, vi era anche una rappresentanza di fedeli calabresi accompagnati dal presidente del capitolo cattedrale della Basilica di Crotone, Monsignor Ezio Limina. Quello sull'asse Crotone-Cestocova è un lungo viaggio che ha mosso i primi passi nel 2014 e che è culminato col gemellaggio tra i santuari di Capocolonna e Cestocova che hanno in comune due madonne nere. Un gemellaggio fortemente auspicato da Michele Affidato che in Polonia è ormai popolarissimo al punto che tanti sono stati i gesti di riconoscenza e di affetto che gli sono giunti direttamente dai massimi esponenti della Chiesa e della società civile polacca. Paese, la Polonia, che ha una delle più alte percentuali di fedeli cattolici in Europa e col quale Affidato ha vissuto prima ancora che una straordinaria esperienza professionale ed artistica un'intensa avventura umana e spirituale. A Palmi, Carabinieri e Polizia hanno arrestato tre persone che si erano introdotti in un'abitazione per rubare. Si tratta di Armando Bevilacqua, 28enne di Merito Portosalvo, Daniele Amato, 38 anni di Rosarmo e Simone Bevilacqua, 37 anni di Catanzaro. Sono accusati di tentata rapina e di una gravata in concorso. Erano a volto coperto da passamontagna, sono entrati in casa, hanno immobilizzato la proprietaria e hanno cercato di asportare una cassaforte a muro. I vicini però hanno udito qualche rumore di troppo ed hanno chiamato le forze dell'ordine che sono arrivate subito. Dopo un breve inseguimento hanno acciuffato i tre rapinatori. Ieri sera è partito il nutritissimo cartellone della tredicesima edizione di Civitanova, programma di spettacoli e d'arte che fonde la tradizione naturalmente calabrese anche con altre espressioni e forme artistiche ed è stato il caso proprio del programma di apertura che ieri sera ha visto il maestro Checco Pallone al centro del palco ma attorniato da musicisti di musica popolare, cinque, e di jazz. Sette jazzisti infatti erano con lui. La commissione è particolarmente riuscita. Vi ricordo che fra l'altro nell'ambito del programma di domani sera si terrà il festival dei Cantastori all'interno della Civita con la presenza di Cantastori provenienti da tutte le regioni meridionali. E ringraziamo chiedo scusa e ringraziamo chiedo scusa alla regia Arca Communication per la collaborazione e per il servizio. Tra ritmo e melodie e mostro e percorso enogastronomico si è aperta l'edizione 2017 di Civitanova Vivere il centro storico di Castrovillari manifestazione voluta dall'amministrazione comunale con la direzione artistica della Proloco del Pollino che desidera attraverso questo metodo rilanciare le opportunità e le eccellenze che offre il patrimonio con tutto ciò che lo comprende e caratterizza per la crescita delle capacità che vi insistono. È un'edizione importante che vede tantissime novità che ci permette di vivere questo meraviglioso borgo antico che è la Civita di Castrovillari attraverso nelle rappresentazioni teatrali di danza momenti dedicati alla cultura dedicati alla musica e il tutto per strada così come ci piace perché ci piace vivere quelle che sono le nostre stradine ed è davvero meraviglioso perché si respira un'atmosfera fantastica quindi io invito chiunque a partecipare a queste giornate perché sono davvero dense di appuntamenti. Al maestro concertatore Checco Pallone il compito di dirigere gli artisti che si sono alternati sul set del Castello Aragonese di Castrovillari Antonio Grosso Danilo Montenegro Nino Stellitano Camillo Mafia in un progetto di Calabria-Sona che ha spaziato dal jazz all'etno popolare al folk. E il maestro è anche qui a Castrovillari perché c'ha un altro progetto? Eh sì abbiamo un progetto con la Proloco di Castrovillari dove quest'anno apriamo i corsi di organetto fisarmonica e tamburello. Questi bambini poi un domani diventeranno come lei? Ma io lo spero come si dice l'allievo supera il maestro quindi Ben cinque le mostre in visione durante la manifestazione la mostra del cinema settima edizione che rende omaggio a Cinecittà per i suoi 80 anni a cura di Enzo Bruno e Francesco Propato in collaborazione con Francesca Tocci. Il giro riparte da Castrovillari mostra fotografica sul Giro d'Italia a cura di Nicola Caracciolo. La mostra fotografica Carnevale a Carnevale ogni fotovale mostra sulla 59esima edizione del Carnevale di Castrovillari a cura di Francesco Limonti. Vanitas esposizione dell'artista Giovanni Callisto promossa dall'Associazione Culturale Mistica Calabria la tortura nel Medioevo strumenti e metodi insediamenti castellari nella Calabria settentrionale a cura del polo tecnico turistico tra Sibaris e Laos Ipseo A di Castrovillari. Novità di questa edizione di Civitanova è il Tornese ovvero la moneta coniata in Francia nell'Ottocento. Abbiamo inteso fare questo cambio all'interno della Civitanova della nostra manifestazione e niente sembra che sta piacendo eravamo scettici sulla riuscita della cosa ma siamo veramente soddisfatti perché la gente ha capito lo spirito di partecipazione quindi va bene e va bene così per il momento. La sosta per la Nazionale lascia spazio al campionato ci lascia anche un bel po' da mare in bocca tra la sconfitta in Spagna e la brutta vittoria contro Israele ma comunque importante sarà arrivarci ai mondiali anche se ci toccherà giocare il playoff dicevo la Nazionale lascia spazio al campionato che dopo due settimane si era fermato e riprende con la terza giornata sono stati designati oggi arbitri assistenti quarto uomo VAR e assistente VAR per quanto riguarda la gara del Crotone che giocherà la prima trasferta è perché ha giocato le prime due gare in casa dell'anno a Cagliari nel nuovo stadio che ha avuto il via libera da poco l'arbitro della gara sarà Daniele Doveri di Roma gli assistenti Bindoni e Vivenzi il quarto uomo Martinelli alla VAR andranno Manganiello e il suo assistente sarà Furnò che era già stato assistente in Crotone Milan se non ricordo male per quanto riguarda le principali gare Juventus Chievo che l'anticipo alle 18 di sabato Fabri di Ravenna anticipa anche la Roma a Genova contro la Sampdoria che anche se impegnata in Champions League come la Juve Orsato di Schi Orsato che era la VAR in Roma-Inter non ha dato il rigore che avrebbe voluto rappresentare il 2-0 per la Roma poi l'Inter ha vinto Lazio-Milan Gianluca Rocchi di Firenze Bologna-Napoli posticipo della domenica sera sarà arbitrato da Giacomelli di Trieste è tutto per questa edizione del Telegiornale che torna alle 19.40 grazie per averci seguito grazie per aver guardato